abbiamo dito l'insegnamento speciale l'ultimo sulla preghiera e c'è il pericolo che in momenti particolari se non andiamo in preghiera la nostra mente sbanda perché vuole agire di per sé senza Dio la Bibbia è piena di insegnamenti sulla preghiera ci sono la preghiera che Dio ci ordina di farla leggiamo insieme questo verso in è comandata da Dio Isaia 55 6 Dio ci ordina di pregare cioè dobbiamo dedicarci a questo cristianamente Isaia 55 6 dice cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino bellissimo noi non ci dobbiamo disperdere poi c'è la preghiera di intercessione anche questa Cristo ha dato l'esempio che noi dobbiamo farlo e leggiamo insieme in Luca 22 32 vedi dobbiamo coordinare la nostra vita spirituale leggiamo insieme Luca 22 32 questa è la preghiera di intercessione ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli con la intercessione e con l'incoraggiamento che viene dalla parola di Dio vedi questi insegnamenti sono importanti poi c'è la preghiera personale guardiamo anche questa Cristo perseverava nella preghiera Matteo 14 23 queste cose li dobbiamo applicare nella nostra vita dobbiamo trovare il tempo quando dicevamo con il fratello Mazzarà prima che noi sprechiamo noi abbiamo 24 ore al giorno abbiamo tempo per tutto però non troviamo il tempo per la preghiera come mai perché il nostro nemico cerca di dirottarci in altre direzioni e abbiamo detto prima che noi credenti dobbiamo curare la nostra vita spirituale e portare a destinazione il mandato di Cristo di raggiungere le anime con l'Evangelo guardiamo la preghiera personale in Matteo 14 23 dopo aver concedato la folla salì sul mondo in disparti a pregare è venuta la sera rimase là da solo gloria al Signore era impegnato sì aveva 70 discepoli 70 discepoli mandò le folle che ma non trascurava quello che ho detto questa mattina anche sembra che il Signore ci guida nella giusta direzione cioè noi siamo affannati pensiamo di qua possiamo anche fare come Marta ha detto il fratello che facciamo tante cose nella chiesa ma questo è importante questa mattina ho detto anche la stessa cosa noi possiamo essere impegnati facciamo il servizio noi adesso stiamo facendo un servizio anche la regia a disposizione possiamo fare tutto questo ma facciamo regio facciamo quello che facciamo tutti dobbiamo avere un tempo di preghiera personale poi c'è la preghiera pubblica quando noi ci troviamo che dobbiamo esprimere la preghiera non è la stessa preghiera abbiamo detto pure stamattina la preghiera per il cibo che santifica il cibo perché se ci hanno messo dentro delle sporcizie di stregoneria la preghiera santifica il cibo e non prende corpo nella nostra vita la preghiera pubblica gradita a Dio leggiamo insieme in Isaia 56 7 abbiamo già letto la preghiera ordinata da Dio adesso c'è l'altro verso che dice 55 56 7 scusami io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli bellissimo qui è forte è forte l'abbiamo già sentita dal fratello prima è forte perché la casa di preghiera adesso e senza togliere la serata di preghiera nella chiesa o gli incontri di preghiera nella chiesa ma la casa di preghiera oggi più che deve restare sempre in funzione è il nostro corpo che è diventato il tempio dello spirito santo non deve pregare il nostro corpo deve pregare il nostro spirito la nostra vita la nostra dedicazione il nostro cuore si deve elevare verso Dio e poi c'è la risposta che vediamo di preghiera leggiamo insieme Dio dà risposte nel salmo 99 6 vediamo come Dio risponde se noi lo facciamo Dio risponde molte volte noi non preghiamo neppure e diciamo Dio non risponde anticipiamo noi la risposta negativa però leggiamo questo salmo Dio risponde gloria sia resa a Dio Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti e Samuele fra quanti invocavano il suo nome invocavano il signore ed egli rispose loro ci sono tanti credenti ridicoli sì mi posso permettere di dirlo perché oggi ci sono anche questi l'esperienza ci fa vedere queste cose credenti che non pregano poi loro già sanno che Dio non risponde che tipo di fede è questa io non riesco a capire quando noi leggiamo in ebrei capitolo 11 verso 6 ci dice che questo tipo di persone che non credono e che non ci provano neppure non sono graditi a Dio infatti in ebrei 11 16 or senza fede è impossibile piacergli non piacciamo a Dio quando noi almeno non proviamo neppure poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti mettici un verde sopra per cortesia se ci riesci così lo evidenziamo resta evidenziato Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano gloria sia resa al Signore benedetto sia Dio e poi c'è la preghiera la promessa di risposta alla preghiera leggiamo anche questo la preghiera familiare Matteo 18 19 leggiamo insieme Dio è grande noi quando cominciamo a camminare col Signore le altre cose devono passare tutte in secondo piano sorella se no non andiamo da nessuna parte noi quando incontriamo Cristo egli è la perla di grande valore abbiamo trovato la perla del valore più grande che in questo mondo ci poteva essere dobbiamo non perderla leggiamo questo verso gloria sia resa a Dio in verità quando dice in verità dice questa è la verità di Dio e non ce ne sono altre vi dico anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli quando noi cominciamo a pregare in famiglia in casa e ci vengono dei bisogni nella mente li dobbiamo dire al Signore mentre preghiamo ci vengono dei pensieri delle cose che abbiamo bisogno la scrittura dice che noi gli dobbiamo chiedere non dire adesso ci ho pensato no noi facciamo la nostra parte Dio fa la sua non facciamo come quei credenti che già sanno che non risponde Dio sai quante volte noi preghiamo e ci sono credenti dall'altra parte che dicono ma io ho pregato già tante volte già credono che non rispondi ma noi invece abbiamo visto il contrario mi viene in mente la guarigione di mia moglie dopo aver sofferto per tre anni dopo la nascita di mio figlio Jonathan era un po' grande quattro chili e due lei un poco piccola minutina e beh qualcosa successe nella sua vita nel parto e non poteva più stare in piedi la schiena gli faceva male non poteva più lavare il bagno quando faceva un po' qualche lavoro si doveva sedere era il dolore forte 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 Signore aiutaci una sera avevamo una tenda qui a distanza nella predicazione il fratello invitava di passare avanti per pregare per la guarigione mia moglie sentiva nel cuore di passare avanti ma si fece vincere dal timore beh qui sotto la tenda io passo avanti sono la moglie del pastore guardiamo se è arrivato il fratello ecco adesso gli diamo lo spazio fratello quando finisco un attimo è molto importante si è fatta vincere dal timore la moglie del pastore che passa avanti sotto una tenda all'aperto finita la tenda la sera del primo culto che abbiamo fatto in chiesa l'appello c'è stato un'altra volta allora nella chiesa si sentiva più adagio suo quando la pelle è stato fatto chi sente ed ha bisogno di guarigione passi avanti è passata avanti era malato un dolore forte la schiena porta grandi dolore è entrata malata quel passo di fede è uscita sana e non ha mai più sentito il mal di schiena a Dio sia la gloria noi non ci dobbiamo mai fermare se sei un credente che quando preghiamo già sai che non risponde oh Signore abbiamo bisogno di pregare per Te perché noi non ci dobbiamo mai fermare quando il Signore dice che sono i violenti vuole dire sono quelli che non si stancano mai di perseverare nella giusta direzione dove c'è una direzione meglio di quella di andare a Dio per qualsiasi cosa non esiste perciò noi dobbiamo allinearci secondo gli insegnamenti della Bibbia